Kan Yaman sempre più nostalgico su Instagram. Lo scatto sexy infiamma il web ma fa anche riflettere. L'attore pronto a dire addio a il turco? Kan Yaman al limite dopo poche settimane? Sembra che l'attore turco non faccia altro che far intendere di voler tornare in Italia al più presto, nutrendo una nostalgia canaglia che proprio non riesce a superare. Mentre è in ballo il progetto del turco, Yaman si mostra dalla sua camera d'hotel, che chiama la sua prigione, in una delle foto più sexy di sempre. Kan Yaman ha intrapreso il nuovo progetto Il Turco, la nuova serie tv che andrà in onda sulla piattaforma streaming d'Insei+, con grandissimo entusiasmo dicendosi pronto a studiare il nuovo copione in inglese, abituarsi ad un nuovo cast con il quale collaborare ed entrare perfettamente nel ruolo di Balaban durante i sei mesi di riprese che lo aspettano a Budapest. Invece, almeno stando alle nuove foto che posta su Instagram, sembra che l'attore turco abbia visto le sue prospettive deluse nel giro di poche settimane, al punto da considerare la sua lussuosa camera d'hotel in Ungheria come la sua prigione impersonale. Un'affermazione molto forte è quella del divo turco, che ha ammesso di provare nostalgia per il set di Viola come il mare e per il feeling instaurato con i suoi colleghi, specialmente con la coprotagonista Francesca Chillemi. Forse, ipotizzano i fan, non si sta creando lo stesso tipo di complicità con Greta Ferro, modella e attrice italiana che sarà la controparte maschile di Yaman e il turco, oppure, più semplicemente, Can sente la mancanza dell'Italia, delle sue fan più svegatate e delle amicizie che ha costruito nella capitale. Quel che è certo è che la situazione non sta migliorando. Yaman ha pubblicato una nuova foto, di schiena, con Budapest fuori dalla finestra e si è detto in prigione. Tralasciando il fatto che nello scatto l'attore è più sexy e in forma che mai, appare chiaro che Can vuole passare un messaggio e che si è in cerca di sostegno. L'attore sta forse pensando di abbandonare il progetto Disney? I fan sono piuttosto allarmati.